Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Quindi qualcosina di sconto, un 10% di sconto, è un gioco che vale 20€, inizio subito a dirvi questo, secondo me li può valere perché è un gioco veramente ben fatto, non è in italiano, c'è un tutorial davvero carino, non è lunghissimo e abbiamo diversi capitoli perché abbiamo la modalità campagna che vi garantisce circa una trentina di ore tra tutti i capitoli, una modalità skirmish, quindi una sfida, una modalità multiplayer dove poter sfidare gli amici e l'editor di mappe, qui abbiamo invece le varie impostazioni grafiche. Vedete che abbiamo diversi tipi di capitoli con diverse fazioni che possiamo andare a controllare, iniziando il gioco ci viene presentata la storia, è un gioco che unisce diverse meccaniche, a parte la storia che ora andremo a vedere molto rapidamente, avremo gli obiettivi da compiere, avremo le unità da produrre e soprattutto territori da conquistare e catene di produzione da mettere in attivazione insomma. Sto saltando tutto il dialogo, praticamente noi abbiamo la possibilità di avere appunto la nostra regione che è questa che vediamo verde e spostandoci sul bordo della mappa, in questo caso questa regione qui, vediamo che questa regione ha il bordino bianco, se il bordino è bianco significa che la regione è neutrale e quindi può essere conquistata, qualora lo vedessimo rosso la regione è ostile. In alto abbiamo dei punti azione, abbiamo i turni rimanenti per finire questa missione, abbiamo la popolazione attuale con un limite, quindi abbiamo popolazione 4, limite 14, abbiamo l'esperienza delle varie unità e vedete che abbiamo in questo caso il comscript e il rickshaw. Il rickshaw è praticamente un mezzo che ci consente, cliccando qui, di caricare a bordo le persone e quindi portarle con noi, quindi questa è una cosa molto carina, infatti vedete possiamo caricarli e muoverci. Al tempo stesso cliccando sulla regione abbiamo modo di poter costruire degli edifici. Questi edifici sono posizionabili, non da unità ma li posizioniamo noi e ci permettono di produrre. In questo caso noi possediamo questo edificio, che è il quartier generale, che ci permette di aumentare temporaneamente i punti azione del turno, ma al tempo stesso favorisce anche la produzione di alloys, che sono le leghe, e di small arms, che sono le munizioni. Infatti questi, diciamo, nostri personaggi hanno, adesso ne scarichiamo uno, cliccando su di esse hanno anche loro delle munizioni. Le munizioni vengono utilizzate ogni volta che noi spariamo un colpo. Vengono prodotte ovviamente dall'headquarters, quindi ad ogni turno l'headquarters ne produce una. Quindi ovviamente bisogna fare attenzione perché se abbiamo più unità dobbiamo aumentare questa produzione. E per farlo, per farlo dobbiamo aumentare, migliorare la, diciamo, la produzione della regione in sé. Ora dobbiamo fare come missione lo scout dei machine base, che praticamente non so dove sia, ma dovremmo andare, penso, nella regione qua a fianco. Ma intanto iniziamo a dare un'occhiata a quello che si può costruire qui. Qui, vabbè, abbiamo la landing zone, quindi la possibilità di costruire una raffineria. La raffineria ci consente di produrre carburante e motori. I carburanti e motori sono utili per la produzione del garage e quindi di conseguenza dei rickshaw nel caso in cui ce lo dovessero distruggere. Comunque abbiamo la tower transport, che praticamente costruendola è una torre in grado di muoversi e trasportare all'interno di essa diversi quattro comscript. Quindi ci vengono prodotti anche quelli, però per farli vengono richiesti 5 motori. Il garage, vedete, richiede, produce delle lastre di metallo, ma non possiamo costruirlo perché, vedete, sotto qui richiede 10 leghe e 5 carburante. L'engineering produce anche quello, il griffin cannon, ma ci richiede anche lì delle lastre. L'unico modo, credo, di fare le lastre, va bene, andiamo avanti. The Hand of the Rain è praticamente un altro edificio, ci permette di costruire gli Anusia Ranged, quindi delle unità militari, però richiede parecchie risorse. Abbiamo l'hangar con il gunship, quindi delle navi in grado di volare. Abbiamo la radio tower, che praticamente ci consente di estendere il range e divisione, diciamo, dell'ambiente e di rilevare le minacce. Abbiamo la raffineria. La raffineria che faremo ci produce motori e carburante, quindi in questo caso andiamo a piazzarla in una zona qua. In questo caso, cliccando qui, vedete che abbiamo anche la produzione adesso di motori e carburante. Andando avanti abbiamo l'Arms Factory, che ci permette di produrre altre munizioni, credo. La Ceremonia Temple, che anche qui ci fa dei guerrieri melee, quindi dei sacerdoti che combattono. Gasworks ci produce il bombardiere da terra, una sorta di montaio mobile. E la Mining Facility è molto utile, perché questa viene posizionata su un'unità militare e su un'unità militare, su un'unità di metallo scavabile e ci permette di estrarre materiali. E qui abbiamo invece il Proxy Headquarter. La cosa che potreste chiedervi è, ma se io mi muovo qui, le unità, cioè le risorse prodotte, rimangono qui? In realtà no, perché? Perché possiamo costruire, adesso lo faremo, ci muoviamo, vedete che possiamo muoverci usando dei punti azione, ed entriamo nel nuovo territorio. Nuovo territorio che al momento ha delle fiamme, insomma. E possiamo andare a scaricare le nostre unità. Non possiamo farlo perché non abbiamo punti azione, quindi passiamo il turno. In questo caso possiamo andare a scaricare una delle nostre unità. Vedete che lui può, a sua volta, mettere un blue banner e quindi conquistare il territorio e renderlo nostro, ma soprattutto mettere il Build Storage Shed. Praticamente questo ci permette di condividere le unità e le risorse prodotte con la regione d'origine. Quindi in questo caso lo possiamo andare a piazzare qui. In questo caso comunichiamo poi con il vecchio Enio. Abbiamo la possibilità di trasformare le unità in accampamento, attaccare, e poi, vabbè, qua non possiamo fare altro. La nostra unità potrebbe andare un pochino in esplorazione. Intanto, qua dietro, ogni turno che passa, noi continuiamo a produrre cose. Intanto andiamo un po' in esplorazione e vediamo cosa troviamo. Oh, ci sono delle unità da scavare. Possiamo muovarci ancora. Ok. Infatti qua, tecnicamente, adesso noi potremmo scaricare lui, che tecnicamente potrebbe mettere il banner. Richiede uno di Lega, quindi forse lo possiamo mettere. Non abbiamo uno di Lega? Sì, teoricamente sì, dovrebbe poterlo produrre. Ah no, richiede due punti azione che non abbiamo. Passiamo il turno, sempre che non succeda niente. Questa è un'area ostile, vedete che è rossa, è circondata con il rosso. Adesso lo piazziamo. No, non possiamo ancora. Tu lo puoi mettere, sì. Lo mettiamo lì e l'area diventa nostra, completamente nostra. Quindi cliccandoci vediamo che le due regioni comunicano grazie a questo shed di storage. Quindi condividiamo le stesse risorse. In questo caso possiamo andare a costruire anche qui. Quindi abbiamo le stesse entrate che valgono un po' per tutti. Devo ancora capire bene come funziona il fatto di avere le unità per sparare. Insomma, devo capire ancora se vengono condivise o se deve andare a prendersele fisicamente per sparare. Questa è una cosa che devo approfondire. Però, andando su qua, passiamo un altro turno. Teoricamente qua potremmo costruire qualcosa. No, non possiamo ancora. Volevo fare il garage, ma 5 di carburante. Ci servono due turni ancora. Vedete che poi il limite è abbastanza tiranno. Qua abbiamo una mining facility che costruiamo subito. La mettiamo lì. E praticamente questa tecnicamente dovrebbe produrre materiale. Passa un turno. Adesso in teoria dovremmo poter, una volta che giocano tutti, dovremmo poter costruire anche l'hangar. Il garage, scusate. Il garage lo mettiamo qua. Il garage ci consente di... Intanto vedete che abbiamo la produzione di plate, che non avevamo prima, mi pare. E praticamente qua possiamo andare a produrre un altro rickshaw. Passiamo il turno ancora. Stiamo giocando un pochino male, ma va bene. Intanto qua io clicco sul suo inventario e aggiungo le unità di combattimento. Questa unità può combattere anche a distanza, perché ha una mitaglietta sul tetto molto potente. Vedete che qua abbiamo un nemico, quindi tecnicamente dovremmo poterlo attaccare. Ovviamente ci sono i dialoghi. Trovo tutto molto comprensibile comunque. Il tutorial è piuttosto esplicativo, vedete. Ha sparato. Spariamo ancora. Teoricamente potremmo scaricare il nostro... No, non abbiamo più punti azione, quindi... Passiamo il turno. Lui ci attacca. Anzi ce n'è più di uno, in realtà. E ci stanno invadendo. Quindi, in teoria, non hanno finito perché attaccano tutti, quindi ci fanno il paiolo. Però questo a grandi linee è quello che io, onestamente, volevo farvi vedere del gioco. perché comunque è piuttosto vario e non è il classico strategico di risorse. Ma insomma ci sono questa serie di cose interessanti che... Allora, se io prendo questo e lo faccio indietreggiare, possiamo vedere che... Questo lo distruggiamo. Questo lo distruggiamo. No, non lo distruggiamo. Ma tra l'altro finiamo anche i punti per poter scaricare la gente. Adesso io faccio arrivare questo qua. in difesa. E ci fanno pezzi adesso. Devo farlo scendere prima, mannaggia. Abbiamo livellato. Tra l'altro. E ci stanno attaccando su tutti i fronti, quindi mi sa che si mette male qua. Adesso tocca a noi, finalmente. Tu attacca lui. Bisogna fare attenzione a quello che consuma a puntiazione perché poi non può sempre farlo. Tu potresti scaricare lui. Qui. Che attacca lui. Tu vai indietro e continui ad attaccare. Teoricamente, vediamo se possiamo mettere... Sì, costruiamo qua. Alt'ora, eh. Che non si può muovere, però vedete che a bordo ha queste persone che al prossimo turno le scarichiamo e ci difendiamo. Pensate che è fighissimo anche giocarlo poi con amici, insomma, insieme o contro. È un gioco a cui, vedete il nome, non lo associate minimamente con meccaniche di questo tipo. È quasi morta qua, eh. Quindi, tu attacchi questo. Ti esposti di là. Poi, tu, scarichi, ti muovi qui e scarichi le persone. E poi vai via. Ok, abbiamo consumato tutto il... Tutto... E non puoi muoverti tu, eh. Sì. Ottimo. Eh, ci hanno fatto l'attacco di opportunità. Abbiamo perso delle unità, ma dovremmo poterci difendere. Intanto, vedete, la regione comunque continua a produrre. Eh, ci hanno fatto a pezzi. Ci fanno veramente a pezzi adesso. Sono tanti. Sono veramente tanti. Hanno due colpi. Due colpi muoiono. Loro ne hanno un po', un tot. Tu potresti attaccare lui e lui va, esplode, ok. Questo ha due punti. Lo sposto qui e attacco là. Tu puoi attaccare ancora, no? Tu puoi attaccare questo, sì. Ok. E bisogna giocarsela così. Possiamo fare un'altra... Attenzione. Quella ha un'unità di uno. Eh, no. Mannaggia. E costruire un'altra torre? No. Tre turni non possiamo più farne. Per me questa regione sì. Quindi poi la mandiamo di là. Eh, la sto giocando un po' male, ma... Dovevamo far così per forza. Ok. Ci stanno demolendo i soldati, ma adesso ne arrivano altri quattro. Allora, vediamo un attimo cosa possiamo distruggere. Lui. E tu attacchi lui, così lo facciamo saltare. Perfetto. Ne resta uno solo. Intanto tu scarichi tutte le unità. E il prossimo turno attaccano. No, attaccano subito. Ok. Abbiamo... Fatto il livello 3, tra l'altro. Come comandanti, come capi di fazione. Qua stiamo anche finendo l'estrazione. E tra l'altro possiamo anche demolire queste rovine, diciamo. Però qua è in brutto posto. Comunque anche di qua è tutto stile. Al momento abbiamo conquistato, però non abbiamo fatto proprio una bellissima figura. Possiamo costruire qualcosa, no? Vediamo se si può fare l'hangra. L'hangra chiede 5 motori. Beh, possiamo aspettare. Tanto abbiamo una produzione dei motori. 3 turni. La butto in bacca così, eh. Giusto per fare una prova. Niente di che. Adesso dovremmo avere 4 motori. Sì. Al quinto possiamo fare l'hangra. Ok, è giusto come prova. Ripeto, non è niente di... Non possiamo farlo. Ah, non ha più slot di infrastrutture. Beh, questa la possiamo demolire. teoricamente, adesso lo possiamo fare, sì. Ok. Ego. Non ha niente all'interno, però tra un turno possiamo costruire la gunship. provare un mezzo volante. Ecco, eccolo qua. No. Motori. Dovevo ancora aspettare diversi turni. Stiamo bruciando i turni e non si dovrebbe giocare così perché è uno strategico piuttosto stratificato e piuttosto elaborato. Intanto i turni vanno abbastanza veloci perché non ci sono nemici intorno. Però tecnicamente adesso possiamo farlo. Ok. Bene. Questo è un gran mezzo perché può fare un attacco e può fare... Garantire, non so cosa. Comunque, vediamo se si può muovere. Sì. No. Prossimo turno. Passiamo il turno, così vediamo. Sì. Si può muovere volando sopra gli edifici. E possiamo demolire. E poi può volare e andare a vedere cosa c'è in queste zone qua. È ostile anche questa zona. E teoricamente qui se c'è qualcuno... Uh. E qua vedete che va avanti la storia perché ci sta spiegando quello che stiamo scoprendo e cose varie. Ecco, sono soddisfatto perché quello che volevo farvi vedere sono riuscito a mostrarvelo. Il fatto che non sia un gioco banale, nonostante la grafica un pochino pixelosa, il gioco sicuramente ha tantissimo da dare. E sarà senz'altro adatto a molti di voi in primis che passeranno sopra il discorso della lingua, ma per gli appassionati di strategia, di costruzione e di gestione delle risorse, il gioco è veramente originale e veramente interessante. Tra l'altro qua, non ho fatto vedere, ci sono i vari contendenti, diciamo, della partita. Non abbiamo visto praticamente nulla, però questo è un assunto di quello che vi presenta il tutorial all'inizio. Il fatto delle risorse, il fatto della produzione, il fatto del combattimento e soprattutto, cosa che mi piace tantissimo, la possibilità di costruire mezzi che vi danno poi la possibilità di caricare a bordo unità e guadagnare punti azioni, guadagnare spostamento perché il mezzo si muove di più a turno e quindi portando più gente avete la possibilità di muoverli in meno tempo. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gioco di cantata con un commento qua sotto, come al solito. Io vi saluto e vi rimando a un prossimo video gameplay. Alla prossima. Ciao ciao.